Ciao, sono Cyril Ngong, ho 23 anni, sono di Bruxelles, Belgio, sono un attaccante destra, seconda punta. Ho iniziato il calcio quando ero sei anni, in Belgio, ho fatto otto anni a Anderlecht, 5 anni a Club de Bruxelles. Dopo sono andato in Olanda al Pes Wendorf in Groningen e l'anno scorso sono andato all'Ellas e adesso qua. Il mio ideo calcistico era all'inizio, quando ero piccolo era Cristiano Ronaldo, però quando sono cresciuto e guardavo un po' più gli giocatori che mi sembravano un po' uguali a me, è diventato Neymar. C'è un momento che non posso dimenticare, i due gol a Reggio Emilia nello spareggio contro lo Spezia, questo sicuramente è qualcosa di un po' speciale. Sono dei sogni che ogni calciatore ha, di vincere un campionato del mondo, la Champions. Sì, ho già avuto qualche incontro con dei tifosi che erano molto carini e volevano fare una foto. Sì, sì, molto bene, i primi contatti che ho avuto con i tifosi di Napoli, della città, molto bene. Sono molto casalingo, mi piace stare a casa tranquillo da solo e giocare alla PlayStation. Non sono un uomo difficile, sono un uomo molto facile, quindi io, casa, PlayStation. Il piatto preferito è un piatto del mio paese congolese che mi fa la mia nonna. C'è il riso con pollo e altre cose, però sì, questo piatto della mia nonna. Un momento un po' da solo, andando a una partita dove mi devo concentrare a fare meglio. Mi piace avere la musica, non ero ricchi per concentrarmi e non sentire niente altro che la mia musica che mi piace. Quindi la musica è importante per me, anche quando sono a casa, sono un po' stanco, metto la musica, mi addormento. Solo ascolto la musica a casa, perché il mio sport preferito è il basket. E la mia squadra preferita è Golden State Warriors, il giocatore preferito che avevo un cane però. Adesso ho troppo responsabilità da solo, magari ho bisogno di una finanziata e dopo prendo un cane. Ciao, ciao ai tifosi di Napoli, grazie per il modo in cui mi avete accolto. Non vedo l'ora di vedervi allo stadio. Ciao.